Disavventura per i residenti in Largo Alcide De Gasperi e nelle strade qui vicino. Questa mattina siamo adesso a mezzogiorno, si sono sviluppate delle fiamme che qui i residenti stessi adesso stanno cercando di spegnere, armati di secchi, di un tubo, vediamo, per irrorare le zone in cui è sviluppato l'incendio, vediamo che la situazione è sotto controllo, ci riferiscono che hanno chiamato i vigili del fuoco, ma i vigili del fuoco rispondono che sono impegnati in altre zone della provincia. Vediamo qui la situazione a Largo Alcide De Gasperi, Alcide De Gasperi Buongiorno, e allora cos'è successo questa mattina? Da dove si è sviluppato qui, scusi? Ma i vigili del fuoco li avete chiamati? Sì, la situazione ci sembra sotto controllo al momento. Fateci sapere se c'è bisogno di aiuto, ok?